La sua riflessione è incentrata principalmente sul concetto di complessità, sull'epoca della complessità. Questo ha dei riverberi ovviamente su tutti i livelli e su tutte le tipologie delle nostre esistenze, in particolare ha un riverbero anche molto forte presso gli adolescenti. Noi stiamo vivendo sempre di più un fenomeno che quello di giovani ragazzi e ragazze che in un certo senso rinunciano al contatto con i coetanei, rinunciano anche a uscire di casa, si chiudono in una dimensione che valutano molto protetta, molto autoprotetta. Noi chiamiamo questo il ritiro sociale. Secondo lei questo come si sposa, come si coniuga all'interno di questa epoca della complessità? Bene, buongiorno. In realtà io faccio l'ipotesi che la complessità non è un metodo d'analisi, non è come una teoria che va a permettere di capire meglio la realtà. Io condiviso con Edgar Morin e altri che la complessità è veramente il nome di un cambiamento in la materialità stessa del mondo. E quando dico la materialità stessa del mondo vuol dire anche il nostro corpo, il nostro rapporto al corpo, il nostro rapporto al mondo. In questo senso gli adolescenti sono dei giovani che vivono un'esperienza assolutamente inedita, quella di affrontare, di nascere a un mondo dove gli adulti, gli genitori non hanno conosciuto questo mondo. Noi possiamo dire sempre che ogni cambiamento d'epoca ha significato questo, che le giovani affrontano, assumono un mondo nuovo. Ma è vero questo in generale, ma oggi siamo davanti a una ruttura veramente maggiore, di cambiamento materiale, oggettivo del mondo. E i giovani veramente non hanno qualcuno che può guidarli, guidarle. Non hanno qualcuno che può dire senti, io ho vissuto questo, ti dico come se passano le cose un po', tu devi fare le tue esperienze, ma io ho vissuto questo. In realtà noi, gli anziani, gli adulti, non abbiamo vissuto questo. Io non parlo della pandemia, parlo dell'arrivo di un mondo di complessità, un cambiamento radicale del mondo. In verità questa realtà vi convocano a noi stessi, adulti, per cercare, per dire come noi possiamo accompagnare e proteggere i nostri giovani in questo mondo che per noi, anche noi siamo giovani in questo senso, di non conoscere. Siamo smarriti anche noi in questa complessità. Assolutamente, assolutamente. Dunque, come si fa per essere un adulto, nel senso tribale anche, di educare, di proteggere, di essere quello che hanno stato prima, dunque aprono le porte agli altri, ma noi non possiamo aprire le porte di niente. Noi siamo delle generazioni che siamo assolutamente stupiti e dunque è per quello che penso che l'accompagnamento dei giovani va a mettere una sfida supplementaria, nuova, per noi gli adulti. Ma queste forme di ritiro sociale le possiamo leggere come una fuga dalla complessità, come una protesta nei confronti della complessità o un mix di entrambe? Sì, penso che deve essere un mix di entrambi, in ogni caso, ma è un modo di proteggersi che non conduce a niente, quando c'è un puro falimento, perché c'è da rifutare questo mondo. E questo che io avevo scritto da anni fa, questo che è una formula, io penso che è vero che è così, che noi siamo usciti di seccole e seccole di una cultura che pensavano il futuro come una promessa, veramente, che noi andiamo verso il futuro e avevano, dicevamo, peccato non essere nato più tardi, perché più tardi sarà meglio. E noi abbiamo passato, in qualche decennia, 30-40 anni, abbiamo passato di questo mondo dove il futuro è una promessa e il futuro menaccia. Dunque è comprensibile che i giovani cercano un po' a nascondersi, a nascondersi non solamente in un retiro geografico, ma è anche un retiro psicologico, che è quello molto più brutto. Un retiro perché non c'è l'invitazione, non c'è questa invitazione al desiderio, l'invitazione al cammino, perché abbiamo paura. Perché abbiamo paura. E la questione centrale per me di come aiutare i giovani in rapporto a questo double, doppio retiro, geografico, fisico e psicologico, è la questione della paura di adulti. Come noi possiamo gestire questa paura, non essere intrappolati. In nome delle cose, anche, no? Non può essere semplicemente dire io non c'è paura perché, no? Noi dobbiamo trovare dei punti fissi, non sai come dire, no? Dei punti positivi, non sai come dire, no? Che permettono di dire è vero, il futuro è molto, molto incerto. Molto incerto e, da più, è menacioso. È menacioso, non è per giocare. E dunque, come facciamo? Come facciamo quando noi abbiamo un futuro menacioso, così, che anche noi, se rimastiamo non pazzi, più o meno saggi, sappiamo che la menaccia è vera? In questo senso, non so se tu mi permetti una piccola anegdota. Certo, certo. A me mi ha marcato moltissimo, no? Una volta, da anni, da anni fa, è stato in Israele, di visita, così, e visitavo ad amici argentini che vivevano in Kivuz. E, di colpo, ha avuto un'allarma e aveva un bombardeo, no? De Katjuska, che erano dei... Dei razzi. Dei razzi. Dunque, hanno detto, tutti al rifugio, no? E dunque, siamo tutti andati al rifugio. Io avevo una paura, no? Perché non avevo molto l'abitudine di questo, no? Certo. E io vedo che arrivano tutti i bambini e sono seduti tutti e tutti cantavano così. I adulti si comportavano come se questo pericolo non era il fine del mondo, per dire così. si comportavano, proteggevano, riscavano a proteggere questi bambini della paura, no? Dunque, io dicevo, cosa incredibile, no? Perché, veramente, una cosa è essere a Parigi, avere una tormenta, e dire a mia figlia non c'è paura, non è niente. L'altra cosa è essere sotto i bombi e anche sotto i bombi essere capace di proteggere la mia bambina, la mia figlia, dicendo senti, è possibile. Cosa è possibile? Non lo sappiamo. Non so se è chiaro, no? Certo. Non lo vedo. Non è necessario rifutare la menaccia per proteggere. La questione è veramente come noi possiamo proteggere i giovani. non è possibile di abbordare, dal mio punto di vista, la questione del retiro dei giovani senza vedere prima la nostra attitudine. Come noi possiamo proteggerli malgrado la menaccia, senza ignorare la menaccia, no? Anche il nostro sistema educativo si è strutturato sotto quelli che possiamo definire un po' i paradigmi della complessità. Quindi, tendendo a formare i giovani e a dare in generale un'educazione, una formazione è molto strutturata sulle competenze, sulla funzionalità dei saperi. Ora, questo probabilmente, mi pare di capire anche nella sua visione, è come dire, amplia questi fattori di disagio presso gli adolescenti perché non gli fa vivere, non gli aiuta a vivere delle esperienze integrali e totali. È corretto? Sì, io condivido il tuo punto di vista perché questa pedagogia di competenze che è complessa le sue storie, ma adesso è diventata molto simbrica a vedere. Questa pedagogia di competenze è quella che dice non abbiamo più il tempo di prendere il tempo, voi dovete imparare di cose utili, ma utili in rapporto a una grilla esterna, la grilla dell'economismo, la grilla dell'utilitarismo, e dunque in realtà da un punto di vista psicologico e anche neurofisiologico, qualcuno che non c'è il tempo di prendere il tempo, che deve imparare di urgenza, di urgenzia, deve imparare di cose utili, utili per qualcuno d'altro, non per lui. E' qualcuno che è molto fragilizzato. Noi stiamo sempre di più fragilizzando i nostri giovani con questa storia di non permetterle di strutturarsi, di prendere il tempo, di dire anche questo che noi dobbiamo dire ai giovani. Non c'è paura, non c'è inchietudine, perché non esiste perdere il tempo, non esiste per il vivente perdere il tempo non vuole dire niente. tu devi prendere il tuo tempo, perché se tu non prendi il tuo tempo tu passerai al lato della tua vita. E' questo proteggere i giovani, è per questo che i giovani sono in questo retiro, perché sempre di più la vita che le proposiamo è una vita di valutazione, di performance, ma in nome di cosa? In nome di un progetto di vita che non è il loro progetto di vita. Non hanno il tempo di conoscere anche il loro progetto di vita, non hanno il tempo di conoscere anche le loro affinità elettive. Però, ecco, come possiamo ristrutturare o perlomeno più che ristrutturare proprio concepire una nuova forma di educazione che possa affrontare questa sfida della complessità? è chiaro che quello che si può intravedere è anche un ritorno lo dico un po' banale e un po' forzata al corpo all'interazione dei corpi a un agire in un contesto fisico in un agire localizzato non così dematerializzato come siamo costretti adesso. È corretto anche questo? Io sono d'accordo. Io penso che territorializzare localizzare l'educazione questo permette di virtualizzare essere meno nella virtualità di un insegnamento globale che non rifletta per niente questo che i corpi dei giovani vivono cosa vivono? L'esperienza dei giovani l'esperienza è sempre di più lasciata di lato poco importa la tua esperienza intendendo per esperienza l'esperienza dei corpi tra dei corpi in un posto concreto sempre di più questo è lasciato delato e questo che importa è quello che è virtuale che è globalizzato che è sempre ultra ma questo ultra vivere con la testa ultra significa l'impotenza assoluta e i nostri giovani sono bombardati in permanenza di questo slogan che dice tutto è possibile tutto è possibile per la tecnica tutto questo ma l'esperienza quotidiana è di un'impotenza assoluta dunque da un lato tutto è possibile è possibile questo iper individualismo attuale è possibile di non morire di tutto cambiare di emanciparsi di ogni catena di ogni legame tutto è possibile ma in realtà la traduzione quotidiana è un vessuto di impotenzia assoluto e di tristezza di tristezza di tristezza